Quanto è importante l'aiuto dei piloti in un contesto come quello del CIV per sviluppare i vostri prodotti? Allora, è importante un po' a 360 gradi. Il mondo delle gare vive su timing molto spinti, su procedure molto particolari e ti allena molto anche mentalmente a essere sempre pronto anche a reagire a inconvenienti, a problematiche, a novità. Secondo me questo è fondamentale, per non parlare poi dell'aspetto proprio del test, del feeling. Quindi noi dobbiamo comunque sì avere non soltanto delle prove di laboratorio per testare i prodotti ma anche un feedback praticamente del pilota. Più il pilota è sensibile, più ti fornisce informazioni utili e più riesci a migliorare quello che è il tuo prodotto. A volte noi immaginiamo che in una curva a 200-300 km orari un chilo di silenziatore nella destra della moto può voler dire tanto.